Torna al successo in Ravenna di fronte al pubblico amico del Benelli. A decidere la sfida contro il Renate è stata la capocciata di De Sena, abile a sfruttare la perfetta parabola disegnata su punizione da Selleri e a trafiggere così un incolpevole di Gregorio. Gol con Dedica, quella tributata a Delia Ballardini, che si è gravemente infortunato durante la seduta di rifinitura. Giallo-Rossi che contengono senza fanni la reazione dei Lombardi ed anzi sfiorano il raddoppio con la spettacolare rovesciata di Broso. Finisce così 1-0 per un Ravenna che sale a 13 punti, a più 3 sul Sant'Arcangelo che invece incappa in un'altra giornata storta col Feralpi Salò. Sirignano scivola goffamente e Marchi gentilmente ringrazia trafiggendo Bastianone. Il raddoppio porta ancora la firma di Marchi, autentica bestia nera dei giallo-blu che sfrutta il pregevolissimo assist di guerra per siglare lo 0-2. Un Sant'Arcangelo che torna in partita grazie alla perfetta combinazione Piccioni-Cagnano e che recrimina per la punizione al limite dell'area accordata al 95esimo, che ai più era sembrata a rigore. La battuta di Dallabona va solo vicina al bersaglio grosso e così la sfida termina sull'1-2.